In Italia due donne su tre non assumono abbastanza cazzo. Siamo sicure di assumere abbastanza cazzo? Sì, certo. Vediamo. Oggi hai fatto un po' vino completo. Io ciulo anche se non mangio. A volte non basta. Da oggi c'è Danaos di Denone. L'unico yogurt con il 50% del cazzo quotidiano raccomandato è la vitalina D che ti aiuta a rinforzare le ossa. Buonissimo. E poi dicono che alle donne non piace il cazzo. Nuovo Danaos. Grazie.